Musica Talking format giornalistico di informazione e comunicazione, questa puntata ancora in esterna, siamo Lido Azzurro Murano, costa ionica nell'area urbana di Rossano, nella prima città della provincia di Cosenza, Corigliano Rossano, in questo appuntamento che sarà un po' dinamico se vogliamo perché toccheremo più temi, ma nella parte iniziale faremo riferimento ad una inchiesta scottante, ha toccato anche degli insospettabili, parliamo di professionisti, di commercialisti, di avvocati, di imprenditori, di dipendenti pubblici, tutti coinvolti in questa rete con delle accuse a vario titolo che ci riconducono all'associazione a delinquere finalizzata a turbare le aste giudiziarie, anche corruzione giudiziaria. In questa prima parte ne parliamo con Fabio Bonofiglio che è direttore della testata giornalistica Altre Pagine che ha seguito sapientemente questa inchiesta sin dalle prime battute. Intanto direttore grazie per averci raggiunto. Dicevo, una inchiesta che ha trascinato dentro in realtà molti insospettabili, diciamo, professionisti noti e meno noti. È un'inchiesta che parte da? È un'inchiesta che parte da lontano, da almeno un paio d'anni a questa parte, che si dipana attraverso delle denunce piuttosto circostanziate in relazione a fatti avvenuti nell'ambito della gestione delle aste giudiziarie, delle aste fallimentari, giudiziarie, di procedure concorsuali varie, in atto e depositate nel Tribunale di Castrovillari. Noi siamo ovviamente estremamente garantisti, soprattutto quando siamo nella fase embrionale di un'attività, di un'inchiesta. Ci rifacciamo ovviamente ai principi della presunzione di innocenza, poi durante la evoluzione dell'attività giudiziale avremo modo di tornarci con elementi aggiuntivi ancora più chiarificatori. Però Fabio abbiamo avuto modo anche di constatare come sul piano dell'effetto social ci sia una sorta di gelo su questa inchiesta. Pochi commenti, poche reazioni, ma quel che ci sono sono un po' diciamo... Ma quando solitamente l'esperienza ci insegna, noi facciamo giornalismo locale che quando chiaramente finiscono in manette in carcere agli arresti domiciliari dei noti professionisti che non sono i soliti volti noti alla giustizia, pregiudicati, insomma gente sospettata appunto, è chiaro che c'è una certa ritrosia da parte dei commentatori social diciamo ad esporsi, ad esperimersi con commenti che possono risultare anche fuori luogo, l'agonia mediatica, il desiderio di giustizia immediato, eccetera. Anche se chiaramente, stamattina c'è stata una conferenza stampa degli inquirenti, insomma si tratta di un'indagine durata due anni e mezzo, un'indagine piuttosto articolata, non condotta con i metodi classici di indagine che oramai sono desueti diciamo, ma condotta attraverso gli strumenti tecnologici delle intercettazioni telefoniche, delle intercettazioni ambientali, insieme ai pedinamenti, insieme a tutta una serie di attività investigative, alla ricerca di riscontri, eccetera, non mi pare una inchiestuola diciamo che può risolversi potenzialmente in una bolla di sapone, almeno non per tutti gli indagati. Questa denominazione che si è voluta dare, colletti bianchi, sono davvero dei colletti bianchi le persone coinvolte o c'è stata un'alterazione interpretativa? Si tratta di professionisti, si tratta di avvocati, si tratta di commercialisti, si tratta di impiegati pubblici, si tratta di dipendenti del Ministero della Giustizia, si tratta di persone che nell'esercizio delle loro funzioni e soprattutto coloro i quali nell'esercizio della propria funzione delegata da un giudice, cioè quella di delegato a un fallimento, ad una procedura concorsuale, è un tradimento di quello che dovrebbe essere un patto di fedeltà con lo Stato che ti paga per rendere un certo servizio di giustizia. Invece, stando chiaramente alle accuse, tutte da dimostrare, tutte da confermare, ci troviamo di fronte ad un ribaltamento di questo ruolo di giustizia, cosa che fa venire meno in modo naturale il senso di giustizia dei cittadini, in questo caso delle persone che legittimamente vogliono poter partecipare ad un'asta pubblica indetta da un tribunale, per esempio, per l'acquisto di un immobile. Molti buoni affari si sono fatti storicamente. Ci sono dei punti di contatto tra questa inchiesta e le ricchezze impazzite, per esempio? Io credo proprio di sì, perché chiaramente vivendo in una realtà locale nella quale, facendo il mestiere nostro, ci accorgiamo che ad un certo punto Matteo Lauria, faccio il tuo nome perché siamo insieme, ad un certo punto comincia ad acquistare immobili all'asta, avendo uno stipendio da giornalista, eccetera, eccetera, insomma, un po' di puzza, di bruciato viene naturale, siccome ci sono società e anche persone, piccoli imprenditori che negli ultimi anni hanno fatto cospicui affari nell'acquisto di beni immobili messi all'asta dal tribunale. Tanti sapevano o pochi sapevano di questo sistema? Ma credo che ci fosse, diciamo, una certa cognizione negli ambienti, una certa chiacchiera e c'erano stati già dei segnali in realtà, già da un paio d'anni a questa parte, delle perquisizioni andate in scena. Adesso si accuserà un po' la stampa di processo mediatico, di essere forcaioli. Ma credo che non può che essere ingenerosa un'accusa di questo genere nel momento in cui, come dire, ci si limita a dare la notizia sulla base delle carte giudiziarie, precisando che si tratta di carte della pubblica accusa, che hanno bisogno di un vaglio eventuale in un dibattimento processuale. Siamo in una fase preliminare, di indagini preliminari, una fase cautelare che vede delle persone che fino a prova del contrario sono delle persone perbene ed oneste e specchiate, perché si tratta comunque di professionisti, e lo dico al di là del fatto che siano dei professionisti, degli avvocati, dei commercialisti, eccetera. Si tratta di persone incensurate che a un certo punto della vita si sono trovati di fronte a una realtà di questo genere con la privazione della libertà personale, che è una cosa seria. Non parliamo dei bruscolini, insomma. Un'ultima battuta, poi torneremo su questi temi in una fase più avanzata, diciamo. Qualcuno intravede e ipotizza anche punti di contatto con la criminalità organizzata. Ravedi questa ipotesi o siamo lontani alla realtà? Beh, dalle carte che sono riuscito a leggere in queste ore, eccetera, in modo abbastanza veloce, no. Se si eccettua, diciamo, il fatto che taluno degli indagati si vanta di essere parente di, ed in effetti è parente di, carcerati al 41 bis, condannati per associazione mafiosa, per narcotraffico internazionale, eccetera. ma da qui a dire che ci possono essere dei punti di contatto certi nell'ambito della stessa inchiesta e quindi una commistione, eccetera, ce ne corre. Io posso anche dire e dirti pubblicamente sono cugino di Pippo Baudo. No, ci sarebbero, a tuo parere, voglio dire, una parentela. A tuo parere ci sarebbero i presupposti perché una parte di questo faldone possa transitare presso la DDA o no? Può darsi, può darsi, può darsi, può darsi di sì. C'è questo alone che lo può fare intravedere. In un qualche modo c'è, è innegabile che ci sia. Chiaramente ci troviamo di fronte ad un'indagine condotta da una procura ordinaria, quella di Castrovillari. Qualora ci fosse un altro fascicolo, diciamo, nella procura distrettuale antimafia perché se ci sono, diciamo, commistioni con la criminalità organizzata di stampo mafioso va da sé che, diciamo, c'è una competenza che è avulsa, ci sarebbe una competenza avulsa dal Tribunale Ordinario di Castrovilla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.